Vado ad altri video sul mio canale No? Questa è la vecchia live Vediamo se appare la nuova Vediamo, vediamo, vediamo Dice che sono in live Ma non mi esce ancora la mia Vediamo Babababà Vediamo, babababà Ok, io mi sento nella live Vediamo, devo aprire la chat Che non c'è la chat Ok, no, ok, ora vedo la chat Ora vedo tutto, ok signori Ho dovuto riscaricare tutto quanto Prima che facevo questa live È successo un casino, comunque Si sente, va tutto bene? Benvenuti Signori Quindi sì, giochiamo a Brawl Stars Devo solo un attimo risistemare tutto perché ho creato Un casino qui in mezzo Tengo finestre, tutto Devo ricollegare il telefono per fare tutto Quindi, un attimo collegare il telefono Ehm Come si faceva? Ok Babababà Ma preparo tutto Non so, mi sento un tecnico di una scuola Ora dovresti sentire pure il gioco Non erro Sì, ditemi se sentite pure il gioco La mia voce Eccetera Ok Vediamo se è tutto a posto Quindi, teoricamente Io se metto Ehm Hello Stars Non si vede però Ecco, ci vede signori Ci vede Allora, signori Benvenuti Trasciamo tutto questo casino Eccetera Come va, gente? Come va? Ditemi, ditemi Come va? Come è andata questa giornata? Ehm Bene Male Ehm Pazzurda Eccetera Comunque Ehm Dobbiamo Fare partite insieme Cioè, per forza Cioè Ehm Un avviso pure per chi è riuscito ad entrare nel clan Perché purtroppo Non c'è spazio Stiamo facendo l'evento Quello dei maialini Ecco, già stanno facendo gli altri del clan E dobbiamo raggiungere il 5 Ma pure io e Poggo Tutti cerchiamo di metterci infognati a farmare Comunque Ehm Quello che faremo oggi sarà Giocare insieme a voi Cioè, che farò io giocare insieme a voi Quindi Farò una cosa pazzissima Inizio ad accettare tutte le richieste Mi hai invitato alla squadra Ma ora mi invito io Ma ora mi invito io Aspetta dai Accetto un attimo Rai a tutti Sono pazzo Sono pazzo Accetto tutti Sì Voi mandate la richiesta Se non era il mio ID E quello là Che si chiama Il tuo ID Blah blah Voi mandate io Certo di accettare tutti E mentre ora vi leggo Ehm Comunque Ciao a Sandro 86 Ciao Billal Ehm Pleisa amicizia Leonardo te mandamelo E ora inizio ad accettare tutti quanti Polle esatto Io sono pazzo Io sono pazzo Ehm Comunque Ciao a te Devo andare Ah vabbè Ciao Gabriel Ho un'altra richiesta Accetta Subito accetto tutti Io sono pazzo Io mi chiamo Io mi chiamo Myroacademia Ah come anime Bello Ho un'altra richiesta Accetta Comunque Basta che mi dici Ehm Ehm Lead Io ti ho dato Io ti ho dato Io ti ho dato Io accetto tutti Accettiamo tutti Mandate voi l'ID Poi vediamo Ehm Vabbè Moderatori andate in azione Che c'è C'è uno che Scrive altre robe Poi vediamo Ciao Ale Aspetta Qual è il tuo ID Sta scritto a sinistra Mi chiamano Andrei Ehm Mandatemela voi Oh mamma mia Quanta gente Sto accettando Adesso Ok Vabbè Nel mentre Ora facciamo una cosa Mentre carriamo Electricist Adesso vi invito io Quindi invitiamo Persona a caso Quindi invitiamo lui Lui E dovremmo già essere Due Facciamo che alla volta Ogni partita La porto due di voi Così Facciamo Ovviamente se la vinciamo E che dopo Se la perdiamo instant La rifacciamo Invitiamo qualcun'altra Aspetta Ah no Già ho invitato uno Manca uno che l'accetta Chi è quello che avevo invitato Mi vede che accetto Che ti posso farti o no Dimmi Leo Ciao Roman Ciao Ket Sono uno che ne fanno Zoom Misura di ciao Sandro86 Ah no Perché ho messo due Aspetta Devo mettere Arraffagemme Ah ecco Ecco guardare il problema Lui Ok Ora Faremo una partita con loro Appena finiamo questa partita Manderò la richiesta A altre due persone di voi E accetterò le amicizie Come queste altre che sono arrivate Quindi accetta 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 Ket qual è il tuo ID Il mio ID è questo qui a sinistra Quello che si chiama il tuo ID Teoricamente questo è Mamma mia Quante richieste Aiuto Non sono riuscito a mandarti Vai tranquillo Poi Riusci a mandarti Tanto li accetto tutti Non ho visto l'ID L'ID è questo qui Signori E questo qua verde Che sta lì Insomma Aspetta Facciamo una cosa Teoricamente si può mettere il testo Su Streamlabs Vediamo Così metto la scritta Ecco testo Aggiungi E C No Id E J2 J9 No aspetta Sto scrivendo qualcosa a caso Aspetta Y8 C Ok Aggiungi Così picca Aiuto Dove sta Non so usare Streamlabs Vabbè Non ci sarà il testo Con scritto sopra Dove il codice Però A alcune volte ve lo mostro Quando finisco la partita Ve lo mostro Eccetera Comunque Iniziamo già a fare una partita Quindi Quella cosa devo vedere Le mie visioni giornaliere Quindi O devo usare quella che tengo ora Quindi Lei sgoschi Quindi signori Prepariamoci Prepariamoci Dobbiamo spaccare Dobbiamo spaccare Quindi comunque Ciao Sara Yo Grazie Ferro Per l'abbonamento Si Comunque Oggi signori Dobbiamo Vincere tutte Ogni persona di voi Che porterò Dovremmo vincere Cat Milano Inter Nessuno di due Comunque Ciao Ferro Prima Perché Non sono un amante Oddio Quanto sono forti Quelli Sono Argento Ok Ce la posso fare Ok Oh mammaio Io sono Il mio piccolo Del telefono Qui non vedo niente Ok No Vabbè Però l'abbiamo eliminato Ok Faremo Faremo Il genere Faremo Il genere Poi Dopo Aiuto Oh Suo piccione Maledetto Ma ci sono il piccione Poi Aspetta Ok Vediamo un'altra chat Perché mi accetti Mi chiamo Le mandizioni Manda Mala a voi Perché non riesco A mandarla Poi Mamma mia Sono morto Per la trentesima volta Un attimo Un attimo La chat bloccata Mi cazzo Ok Amici che Hai troppo amicizie Ah e mo Appena fisco questa Accetto le altre Vi faccio Mandare Sono il mio Di primo mandatore Di richiesta E sì Dopo Prendo altre richieste Tanti se vuoi Dobbiamo accettare Tutti quanti Questa Questa Sarà Basta Voglio cercare Di portare Tutti 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 Dal primo All'ultimo Sarà Tutti Però Ci devo Uscire E sono morto Per la trentesima volta Comunque Non vedo niente Aspetta Così Vi sorzio Il telefono collegato Al computer Che è troppo piccolo Ok Non so Non so Non so Non so La torretta Il piccione Il piccione Il piccione Il piccione No Quello non è il piccione Tini Grazie dell'euro Mi sono Diciamo a nian Ehm Comunque Oddio Ah io stiamo in vantaggio Dimenti la sp... Ehm Mi sono Diciamo Sono un fan Pazio Bell'nome No 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 Devo La torretta, la torretta, la torretta, la torretta Vai Ma se c'è il piccino laggiù Abba, sto volo mi gioco Ok, se è troppo alto, aspettate La passo un attimo Ok, se è venuto così, dovrebbe essere più basso Ok, così è più basso, casomai se vi dà fastidio Ma casomai pure voi moderatori aiutatemi Per dimmi se va bene audio, eccetera Sì, devi mandare amicizia Sì, ora ti inizio a accettare tutti quanti Questa chat Ok, ora accetto altri Sto spammando tantissimo Ce l'ho fatta Che ti vorrei mandare Aiutando la linea tra youtuber Non so, cioè Minecraft non è uno dei giochi che mi piace tanto da portare Giocherai ad altre partite Sì, sì, certo Ora faccio così Visto che abbiamo vinto questa partita Ora esco da questa e invito altre due persone Quindi Facciamo così Invito Io faccio casualmente No, no Aiuto No, aiuto Non riesco a invitare Aiuto Aiuto Ce l'ho messo No, voglio invitare a caso Voglio invitare due persone a caso No, no Ragazzi Farò prima con persone Aiuto Non si toglie più Raga Non si toglie più Non si toglie più Aiuto Ragazzi Ho un po' subito Non mi posso accettare a caso Aspetta Ok E se è entrato qualcuno Va bene Mentre nel club E purtroppo nel clan Siamo full No, aspetta Dove è il clan? Siamo full Purtroppo siamo 30 su 30 Quando si libera posto Io Poggo Oppure Domi Accettiamo un posto In più che c'è Tra le richieste Quindi Mi sono chiamato Samu Ciao Samu Che ti spiega una cosa Dimmi Emanuele Emanuele Voglio dire Mi sono chiamato Leonardo Mentre Vuoi tornare a fare Un piccolo controllo Ok Non so perché non mi va Ah no Mi sa forse che ci sono Altre richieste qua Mamma mia Sarà un casino adesso Sarà un casino Appena escono No 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 Roba Mi arrivano 30.000 amicizie Perché da che non arrivano La richiesta amicizia E penso che ora era pieno Ecco Ora stanno arrivando altre Io accetto Pian piano Filiacchetti Devo dire una Cosa Dimmi dimmi Fisichetti Dammi l'amicizia E devi mandare me la te Emanuele Mi sono chiamato Xocater Ciao Xocater Non spammare però Che dopo Intasi la chat I motorizzatori devono Ecco Appena cancellano il messaggio Quindi Evita di spammare Ciao Leonardo Ciao Leonardo A priori Mi saluti Mi stai simpatico Ciao I am Martina Punto Xe Ok Ho accettato Altre richieste Che non posso Stare tutto il tempo Ad accettare Quindi Facciamo quest'altra Quando Quando Guarda Un Batman 7 Quando uscirà Mi ho spaventato E ho già uscito il 7 Che se non erro Io il 6 Non l'ho portato Quindi devo portare Le live Le sgoschi Ok Questa mi sembra Più bilanciata Per me Per il mio livello Di stupidità Allora Andiamo Vai bro bro Vai vai Avanziamo Avanziamo Ok Sono difficile Con quello è difficile Avanzare Vai 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 Ok Mi sono morto Ciao Samuel Ciao Samuel Ciao Maria Io No Tranquoli ragazzi Penso io Oh Oh Fatta fuori Fatta fuori Fatta torretta Nel cispuglio No bro Sca Bro Sca Bro Eh no È vero È morto Bro Sono morto Pure io Vedi Mi chiamo Dovete mandarmela voi Dopo vi faccio vedere In nuovo il codice Appena fisce questa Ok C'è quella Che ne ha 7 Oh mamma mia C'è quella Col vino Che ne ha 7 Dobbiamo Tarraghettare Lei Però è difficile Mamma mia No 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 Non ci devo Alcuno di loro Non ci devo Alcuno di loro No Guarda partire La parte 5 Di PMD Ma è finito Di PMD L'ho finito È uscito Il video Del ultimo episodio Comunque GG è stata bella Ora voglio fare Una cosa più fatta Così riusciamo a cercare Di giocare Sempre di più Facciamo una cosa Creo Quella customizzata Quindi teoricamente Devo andare su No no Spabbatemi Non riesco A organizzare Dopo Come si fanno Quelle personalizzate Non so come si fanno Devo riuscire a capire Aiuto Ce la posso Ce la posso Ce la posso Fare Come si fanno Quelle customizzate Mi serve aiuto Wait Forse so chi chiedere Wait Non sta su Discord Questo mio amico Perfetto Cos'è questo Ah mi ha amicizia Pure le notifiche Le sgoschi Wait Ok Dove Cercare Come fare Aspè 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 Vediamo Aspè L'ho andata La chat Quindi qualcuno Sa come si fa A fare Custom Aspè C'è il mio moderatore Andreazzo Che mi ha appena Scritto su Discord Sai come si fa Te Ma che impostazioni Uno aveva detto Aspè Vediamo Ce la posso No non posso andare qui Oh my god Oh my god Ce la posso Ok no C'è È fattibile Mi sa Quante notifiche Mi stanno arrivando Metti non disturbare Oh Mi sa forse Dovevo farlo prima Ora mi sa Un po' difficile Farlo Ma se no Forse Da qua si mette Non disturbare Forse No mi sa Di no C'è la Ce la posso fare Ah Per i prossimi Dieci minuti Ah ok Ok però Stanno ancora i vecchi Aspè Ce la posso Amare Ok Dovettimo Fermare Quest'orda Di inviti D597 Devi mandarmela A te Perché io Non so come si fa E poi Mostro il codice Poi Sto facendo Sto facendo Un silenzio Aiuto Aiuto Oh mamma mia E' un casino Mi sa Dovevo Sto 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 Un po' Di più Come funzionano Le cose Delle Amicizie Però Una cosa Ragazzi Tutti quelli Mi stanno scrivendo In maniera Amicizia Non so se Vedete Ma non posso Muovermi Cioè Potete pure Scrivere Favore Io cerco Di accettarmi Ma Lo vedete pure Voi Non Non riesco Cioè, il gioco Tutti mi stanno impegnando Aspè, dovete riuscire a mettere la roba che non mi mandano gli inviti Aspè, ce la posso fare No, ok? Andare velocissimo Aspè, blocca Aspè Ok, ha bloccato gli inviti Signori, ok, così posso invitare Io voi Ce l'abbiamo fatta comunque, campini nel mondo Mamma mia, ragazzi, era un casino Ora accetto gli altri, mentre Ora cerchiamo di capire come si fanno No, 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 no Ma accetto voi Sì, non è verità, ma non è spammato No, vai tranqui Allora Dove lo capi Aiuto, non si fermano Non si fermano È un loop Ok, dobbiamo, andiamo Quindi, foot brawl Brawl basket No Ce la posso fare Ce la posso fare Speciali, forse No, aspè Dove riuscire, aspetta So come fare, aspetta Wait, aspetta Aspè Ora chiamo un mio moderatore Che mi aiuta nel mentre Ciao Andrea, siamo in live Buongiorno Buonasera Mi sei mai Aiuti Aspetta, ti condivido Ok Allora Allora Esci qua Ok In alto a destra Ok Sotto C'è sotto i messaggi C'è scritto Battaglia amichevole Ok Ce l'ho fatta Ciao bello Ragazzi Bravo Tutti quanti spammate Grazie Andreazzo Ci ha salvati Allora Ora inviterò uno di voi Un aiuto Ho bisogno di collaborazione Da voi Non mandategli un invito Perché mi invito io a voi Perché sennò dopo Rimeremo qua per sempre Cioè Sarà una roba in loop Quindi Usa Usa Il tasto Per permettere Non disturbare Però io uso il tasto Per non disturbare Cioè lo sto pure premendo Ma non funziona Oh mamma mia Ragazzi Rimariamo così all'infinito Ragazzi Dobbiamo stare così Quante richieste Oh mamma mia Non uscivo mai più Da qua Potremmo testare una cosa Dovrei provare A riavviare il gioco Però potrebbe essere Una pazzia Quindi provo a fare una cosa Aspetta Nascondo un attimo L'icona Riavvio un attimo Il gioco Sperano che almeno Così non arrivano Tutte queste inviti Perché È impossibile Dopo giocare Insieme a tutti quanti Quindi aspetta No non se ne vanno Stanno ancora qui No ragazzi Riavviare il gioco Non si tolgono Però come fa Una cosa però Quelli che mi stanno scrivendo Mi mandi l'amicizia Non so se state vedendo La live Non posso Neanche accettarvela Non so se vedete La situazione Che devo dire una cosa Scrivimi Oh mamma No sarà una roba in loop Sarà una roba infinita Ok No aspetta Ragazzi vi prego Fermatevi Aspetta Fermatevi un attimo Fermatevi un attimo Fermatevi un attimo Fermatevi Vi prego Prego Devo vedere Devo capire Devo capire Blocca Aiuto Ok aspetta Ehm Che ho fatto Blocca richieste Di amicizia Si No Mi sa questo è un'altra No aspetta Allora questo togliamo Io sto impazzendo Facciamo una cosa Invito a caso Invito a caso Bababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Dice Non ci sono tutti tutti però Wait aspetta Ah che no sta caricando ancora Vediamo Ok Basta Quanti inviti Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso Mamma mia Non posso muovermi Ok Oh mamma mia Ok ce la posso fare Ok Non mi erano più le richieste Quindi ora siamo full in questa lobby Le richieste non mi arrivano Una cosa Quelli che mi stanno chiedendo l'amicizia Questo qui è il mio codice Io non posso mandare Perché dobbiamo un casino Cioè questo qua Ah questo è tre Aspetta Metto cinque Perché so che si può mettere cinque Sette Non aspetta Subito così aspetta Al meglio della set No Al meglio della cinque Ma devo smanettare un pochetto Energy tank Boh Attivo tutto Così diventa una roba incasinata Ok accetta Accetta Ok Come siamo entri nei posti Oh mamma mia Oh mamma mia Cazzi Prego Aiuto Ok aspetta Dove vi invitare uno a caso Ok Nel mentre ciò Chiamati di capire Che so che si può fare Cinque e cinque Ah metti sopravvivenza Ok Quindi no Sopravvivenza Sopravvivenza Ah ecco Stanno scritte Ecco Facciamo quindi Arraffagemme Ok No ce la posso fare Aspetta Vi la squadra E gli altri giocatili Quindi What Non sto capendo Invitare in squadra Non posso neanche più invitare Aiuto Sto rompendo tutto Aiuto Come fu Sono confuso Aspetta Ce la posso fare Ce la possiamo fare Facciamo una cosa Mettiamo sopravvivenza Come Uno aveva consigliato Mettiamo questa In due mettiamo Ok ci sono più posti Però perché non mi fa invitare Comunque Aspetta Mentre accetto Altre friends Allora Ok mi fa invitare Adesso Invita 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 No No Non faccio così Perché dopo si crea un casino Che dopo entro da uno Dopo entro da un altro Se accetto in quel modo Per questo ragazzi Chi sta guardando la live Per favore Evitate di farlo Cioè si crea solo più casino Non giochiamo più Perché dopo un po' Io devo staccare la live Dopo un po' Ci sto per sempre Invita Invita La squadra è piena Come è piena Perché so Oh mamma mia Ragazzi Mi prego Ok Invitato uno Non so se ho invitato Non invita più E tra l'altro Devi andare a fare La spesa Tranquillo Io cerco di giocare con tutti Però basta che Gli altri non spammino Perché se spavano l'invito Io non posso organizzare Perché io sono Giochiamo uno alla volta E Non giocheremo mai Tutti quanti Attimo Riviuta 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 Posso Posso invitare Posso invitare Le persone casuali Facciamo una cosa Partiamo Mettete Mettete Questo evento Non prevede La Io sto impazzendo Vediamo Aspe Vediamo 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 Non c'ho più Quante richieste Ma questo pure silenzio È perugoso Wait aspetta Ok si sono calmati Prova di invitare No No Aspetta Aspetta è vero C'è il codice Della lobby Questo qui Aspetta ve lo scrivo Ve lo scrivo Ho tratto Un metodo Per entrare Aspetta Per farvi entrare Aspetta Questo qui Usate questo qui Per entrare nella squadra Così almeno È più fattibile Perché avete visto Pure voi È impossibile Fare sta roba Ok Siamo No Non siamo full Però Questo robot Che sei Come sto Sto impazzendo io Facciamo una cosa Mettiamo raffagemme Ok Ci dovrebbero stare Altri posti Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Stiamo distruggendo Brawl Stars In poche parole Perché non funziona più Facciamo una cosa Aspetta La provo a ricreare Sarà difficilissimo Ok Battaglia Ok Ok Raffagemme 5v5 Ok signori Adesso vi mostro il codice Che non mi ricordo più Come si fa Oh no Oh no Oh no Ce la posso Ce la posso fare No ragazzi Vi prego Una collaborazione Per favore Non possiamo più Fare niente Così Devi cliccare Non disturbare E per me è questo Io Clicco il tasto Quello là Zittisci Per coso Sarà una roba infinita Mettamente aspetta Ho pure la chat Con il moderatore Che alcun altro Mi scrive Ce la posso fare Ok Ok Signori Il codice Il codice Adesso ve lo scrivo Entrate tramite il codice Perché è un casino dopo Entrate il tutti Così almeno Non mi arrivano gli inviti Usate questo codice Usate questo codice qui Usate questo codice qui Così possiamo Riuscire finalmente A fare una partita Ok Aspetta Oh mamma mia Oh mamma mia Oh mamma mia Ok Siamo full Teoricamente non mi arrivano più gli inviti Ora Nel mentre Cerco un attimo di capire la roba E non disturbare Se è fattibile Vediamo Impostazioni Adesso c'è un attimo Se esiste Non disturbare Fare Options Vediamo un attimo Vediamo un attimo Ok wait Ce la posso fare Un attimo Non sto l'attimo Leggendo la chat Adesso lo trovo Ok Tutelamente questo Bloccare richieste di amicizia Non so se è questo Con precisione Comunque Ce l'abbiamo fatta Quindi adesso Prendete un personaggio Che vi piace E Facciamo il caos Vai sulla faccina E c'è In basso a sinistra Non disturbare Ah ok Aspetta Sulla faccina La faccina Questa No Ce la posso fare Aspetta Per inviti Amici Sotto a sinistra Aspetta Amici Vediamo se ce la trovo No qua no Anche amici Forse Oh mamma mia Quanto è richiesto Oh mamma mia Aspetta Ce la posso fare Aspetta Dovete esplorare un poco Ecco A me così Posso finalmente esplorare Aspetta Ecco pure la chat In alto a destra Ok in alto a destra Ah Eccola 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 Non disturbare Ok Silenzio messaggi Facciamo per ora Ok Ok Allora Teoricamente Guarda Questo qui Si deve lasciare Così Perché così potevano andermi La richiesta Quindi Così Mentre un attimo Accetto un attimo pure voi Ok Ora Possiamo partire Quindi Facciamo Questa partita Poi ricreo la lobby Vi rinvito E quindi Finalmente Possiamo fare Il gaming Mamma mia E' stata una guerra All'ultimo sangue Allora Oh mamma Vabbè rega Sono l'unico Ah no C'ho un bronzo Insieme a me Dai Almeno c'ho il bronzo Insieme a me Dai Allora Quindi ce la possiamo fare Oh mamma Che casino A me sono sempre Stato un casino Queste modalità Ok Cos'è Oh Un pomodoro Che mi sta sparando Oh Ti prego Ti prego Sono l'unico Non dente Vedi 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oh mamma mia Oh no no Che succede a me Sta cambiando Con drive Ah Posso dire una cosa Dimmi Fan di xiao Tu scrivi che io Dopo cerco di leggere Io cerco di leggere La chat pure Aspetta Dove loro mi inviti Io cerco di invitare tutti Perché il problema è che siete in tanti Cioè Bisogna di più di 100 Richieste di amicizia Oh ma Questi sono le amicizie Molto Dopo rimandala Io dopo Vi riaccipo altre Ce la possiamo fare Ce la possiamo fare Avanziamo Su 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 Oh ma Oh ma Ora Sono Sono in vantaggio Non bueno Non bueno Sono in vantaggio Dobbiamo vincere Siamo perdendo Signori Ok Avanziamo Dobbiamo recuperare le gemme Soldati Ok 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 No 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 Vai 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 No Certo sei bellissimo Cazzo Cazzo Ce la puoi fare Io cerco di farcela Come ti chiami su Roblox Sono Nero Dottor Cat Abbiamo perso Allora Visto che ora abbiamo finito Ne creo un'altra Teori Adesso mi arrivano Tutti gli inviti Quindi possiamo farcela Tranquillamente Portare più persone possibili Quindi Metriamo questa Inizio già a preparare Un paio di cose Questo Metto Questo Attiva questo 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 Finalmente Riesco a fare una lobby Tranquilla Nel mentre Quindi Mettiamo una mappa Sempre a raffaggiamo Facciamo per ora E ora Signori Per non fare per ora Facciamo una cosa Ci sarà il codice scritto A sinistra Voi dovete copiare il codice Facciamo per ora tramite il codice Poi facciamo alcune volte Che invito io a caso Quindi signori Preparatevi Tra 3 2 1 Ecco il codice Qui a sinistra Signori Spacchiamo 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 Mamma mia Mamma mia Nel mentre Controlliamo No Non è ancora Nessun entrato Ma si Fanno entrare Aspetta Mi fa entrare Non so se funziona Vediamo Ah no Mi sa forse Non posso Bato Perché mi odi Dimmi Facciamo una cosa In video Stai entrando Stai entrando Ok Dove a sinistra E qua C'è scritto Un codice C'è scritto Codice squadra Quello che si chiama X N U Y H A T 6 Mi ha Non è l'amicizia Dovete mandamela voi E questo codice è verde L'amicizia invece Io cerco di accettare Tutti quanti Mentre Aspetta Mi fa invitare altre persone Quindi dovete entrare voi Mancano altri 4 posti Sta qua il codice Casomai Aspetta Ve lo scrivo pure Quindi N U I Pianca T 6 Perché non riesci a trovarlo Ecco qua Aspetta Ma le mie amicizie Le tieni? Sì C'è Ho accettato Tutti quanti C'è Quelle che mi arrivano Io cerco di accettare Ora non c'è nessuno Se non ci sono altri posti Non mi va il codice Ma come? Ho rotto Ho rotto di nuovo tutto Wait aspetta Mi sa forse qualcosa qua Ho toccato Vediamo Togliamo questo Ecco Minchia E appena di già tutto questo Allora Partiamo Partiamo Mettete tutti i pronti Mettete tutti i pronti Signori Signori Se no Non puoi fare 10 su 10 Wait No Per ora Siamo pieni Togli i bot Eh no Ora non ci sono più i bot Mi sa forse La live è un po' indietro Spam e controllare Siamo un po' avanti La live Ok dopo questa La ricora eccetera No Non posso già Quando non sei in live E dopo la live Penso non sono A giocare Questo Faccio altre robe pure Accettate amici Se voi mandatemela Volevo sempre postare il codice Ok Ma velocissimo Un passo Ah ma ho tirato qualcosa Io mi sa Adesso Ma cos'è Mi sa non devo attivare le cose a caso Oddio 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 Ce la posso fare Ce la posso fare Ce la posso fare Non ho dato Ho preso Non ho dato Cos'è quel coso Cos'è quel coso Cos'ho attivato Mamma mia Dove si scrive il codice E dopo lo devo rimontare Dopo questa partita Ma che è una figata Con tutte le cose attive Mamma mia Ma che è una pazzurda Vabbè Vabbè Dove rimanere quello No Ok Senti Deve parlare dei nomi Sì Bro Concordo Il nome pure concorda Che è il mio padre Ok Ok Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Signori Siamo in vantaggio Ok Ok Dai Yeah Quando fai vedere il codice Ma lo vi faccio vedere Ora Esco da questa Che abbiamo vinto Pure se perdiamo Uscivo E ora Accetto le amicizie Questo qui perde E il No aspetta Di qua E di qua Sta il codice delle amicizie Quindi rimandate là Poi Ora creò la lobby Vediamo aspetta Un'altra cosa Dimmi Fandix out Tu scrivi Io cerco di leggere tutti Qual è il tuo nome Andrea Allora signori Ora Rimetto Vi scriverò pure il codice Che ti posso giocare Quando sei live E quando Dopo live Non sto giocando A bros stars Comunque Questo è il codice Signori Ora ve lo scrivo pure X N Y M H 3 No aspetta Non sto scrivendo Ok Questo è il codice Vediamo Poi appena Dopo un po' Mi inizio a invitare io Se non Arriva nessuno Quale il tuo nome Di bros stars Dr. Cat Ok Ci siamo riempiti Quindi signori Scegli il posto Brawler Aspetta Questo non mi convince In questa mappa Quindi prendiamo Subit Aspetta Ascolti Fan di schiavo Tu riscrivi il messaggio Perché dopo leggo La frase che mi Dici Mi leggi il messaggio Stai editando bene I video Sì Devo andare Ciao Ferror Prime Aspetta Non mi fa entrare È perché ora è piena Come si fa giocare con te Io ogni volta Che finisce una partita Faccio così Esco da questa lobby Ne ricreo un'altra Yo Tommy Grazie per l'abbonamento Toglio di non disturbare No non posso Se lo tolgo Succede il casino Non so se avete visto Cioè Non potevo neanche muovermi Mi erano 30 richieste al secondo Quindi per forza fare così Che vi do il codice E voi entrate Ok Allora Ce lo possiamo fare Ok Eh No noniti Non Shocker Non 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 posso'M Non possiamo parlare Non posso warmar Non sıker E dopo te lo mostro Appena finisce questa partita Dai Signor Falco Io credo in lei Lei ce la può fare Signor Falco Ce la può fare Aspetta quando mi dico Undertale E poi lo continuo Già ho fatto quell'episodio Poi esce Sì Paolo Perché non aspetti così scrivo Non posso stare tutto il tempo Sto tutto il tempo ad aspettare Mi accetti l'amicizia E Paolo Manda la richiesta Io poi te la accetto Perché se non la mandi Non posso accettartela Penso sia difficile accettarla Se non mi arriva Fan di schiavo Dimmi fan di Xiao Ma scusa Manuel Non è che tiene la live un po' indietro Perché tutti quanti hanno la stessa Tempo della live Perché di scriverlo da volo Devi scriverlo Io non posso fare niente Dove si scrive il codice della squadra Ora aspetta vi dico un attimo dove si scrive Teoricamente Ehm 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 Ecco si mette qua Ehm Codice Ehm Codice Invito No Questo è Whatsapp Assi sono sbagliato Con i video invito Se no Entra con un codice Ecco sono stupido Questo qua Solo che ora Non è questa qui Quella voglio fare Quindi facciamo Ehm Pa 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 Com'era? Ecco questo Aspetta vi c'è troppi amici Come? Ehm Non è solo questo mi sono arrivato Non è che forse ho avuto il massimo di amici di Brawl Stars Vediamo Aspetta quanti amici si tengo No 201 Dovrebbe Arrivare in altre Ah oddio aspetta Devo andare ai posti Mettiamo Questo No Devo mettere 5v5 Ok Hm Ciao Gatt Come stanno le live? Bene Solo che è un po' un casino Che abbiamo 30 Mie naviche di amicizia Per un momento di live Sono stato mezz'ora A cercare di muovermi Su Brawl Stars Però togli Non distruzione Se non mi fa entrare Eh ma è questa la cosa Non posso perché Non so se avete visto Cioè Questo è il codice Solo questo possiamo fare Perché Se tolgo Il massimo Brustace 200 Ah ok Il codice è questo qui L'autorate qui Ok si Noi siamo full Non mi fa il codice Mi dice Vai il codice è tutto Buggato Eh si Facciamo un po' un casino Perché Siamo in tanti Che mandate la richiesta Per entrare col codice Quindi Penso siamo pure un po' normale Sta roba Che Da problemi Vediamo Chi prendo Il coccodrillo Lo sbloccato da poco Il coccodrillo Guardami ciziai 200 in questo momento Su Brawl Stars E da quello che Mi hanno detto Quello che mi avete detto È il massimo Come si fa a copiare il codice Velocemente Penso di scrivere il volo Velocemente Perché non so se si può copiare Ok E le scoschi Le scoschi Come funziona il coccodrillo Ok Poi Che ho fatto Mi sta furendo il naso Aiuto Ok C'ho 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 Qualcosa Non so cosa ho fatto Aiuto Oh Oh Sto naso Aiuto Si riempie subito E Non posso farti niente Che si deve più di 100 Cercare di entrare Quindi normale No No Ficca quello Ficca No Ok Mi sta dovrei impararlo a usare Ok 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 Vai 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 Non so cosa fa questo Ok Ho tirato qualcosa Guarda Guarda come bussio Guarda come bussio Eeeh Dove scherzo Dobbbero stare sul computer Non sono Non sto giocando da computer In poca parole Eh Aspetta un attimo In poca parole C'ho Il cavo del telefono Collegato al computer Con un'applicazione Lo uso tramite il telefono Per condividere lo schermo Però diciamo Sto giocando da telefono Io Hai troppi amici Eh Non posso farci niente Oh Oh Qualcosa Aspetta Va bene Questo è dove sono Sto giocando E per me è questo E che Voi dovete mettere il codice in tempo E che Non posso fare niente E' perso questa Taglie Ok In viti non c'ho niente io Quindi Esco Ne ricreo un'altra adesso Quindi Eeeh Mi sto un attimo dimenticando Battaglia Nel mentre Equipaggio Questo Raffagemme 5v5 Eeeh No Com'era Mi sto dimenticando Aspetta Ok Il codice Trovate sempre qua Qua Dove sto indicando Con il codice X N U G L GP 2 Ririscrivelo Fandiziavo Cos'è la tua amicizia Eh ora c'ho l'amicizia al massimo Non mi arriva neanche più Non mi arrivano Ma è un gruppo Sì è un clan Che per ora E' pieno Comunque Sì noi Vediamo io mi prendo Il pazzarello Con i lanciarazzi Mi dai pronto signori Aspetta c'è lo cartone Bambanzai Lo porti Sì lo porto nel live Allora Alla fine hai capito Perché stai facendo La neutra E non la genoside Sì mi sono fatto spiegare Da un mio amico Probabile Visto che io volevo fare La genoside Poi le altre Eccetera Cerco di rifare Un attimo Il punto Per ritornare dove stavo Una cosa un po' pazzerella Mi sta aiutando Papà Selofy Ok E' bello Cos'è le amicizie No Ho raggiunto il massimo Le amicizie E' questo il problema Yo 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 Cosa fa questo Oh yo Ho saltato Ma cosa scrivere Le 100 Cos'è la squadra Non lo so Se c'è un metodo Veloce Cioè Ok Signori Dobbiamo vincere Signori Non c'è qualcosa Non cambiare l'obby Cioè Come voglio fare Qui dopo è peggio Se non cambiare l'obby Qui dopo c'è Chi ha già avuto il codice Cioè Chi già è entrato ora Ha già il codice memorizzato Quindi puoi entrare Molto più velocemente Penso E Nico Non va il codice Perché ora siamo in partita Penso E perché Forse era pieno Quando vi cerco di entrare Che Oh io 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 Che non mi copierà Che non mi copierà Che non mi copierà Che non mi copierà Un mamma mia Che non mi copierà 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 non so guarda se ce ne vuoi leggere la chat ma dovremmo venire con Brustart ok chiacciare le gemme riparo ripendo io suu daje ora ora ricordo la lobby quindi facciamo battaglia mettiamo quest'altra mettiamo c'era aspetta put brawler quanto si può giocare non so in quanto si può giocare mettiamo questo questo in quattro solo facciamo una di queste allora signori il codice adesso lo troverete tra poco sempre qui qui ci sarà un codice con scritto di numeri quindi iniziate a prepararvi con la roba per scrivere il codice eccetera bla 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 quando c'è la partita mi mandi l'amicizia l'amicizia è prima di questo ho il massimo non mi arriva più nessuna comunque tra poco ora clicco e vedrete il codice sei pronti tre due uno questo qui è questo è questo il codice questo qui ce la possiamo fare ce la possiamo fare ciao ciao Matteo devo andare ciao ciao Danila ciao ciao amo io faccio queste cose comunque facciamo questa qua e non mi fa il codice forse perché mo sono entrati tutti quanti cioè sono entrati quelli che ci sono questo è vorrei cambiare prendo boh 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 io ti mando il codice ma non va l'amicizia è perché ho raggiunto il massimo come ho detto il codice è perché devi cercare di metterlo in tempo metti 5 di 5 per ora volevo fare un attimo questa che era rapina quella di defender che è carina a meno farne una perché devo fare sempre la stessa modalità annoio un po' dopo questa ritorniamo di nuovo a fare le 5 di 5 quelle super grosse ok sono dei treni what what the hell è un trenino sto morto oh va bene no i trenini Io, io, che è questo? C'è Davide che gioca sempre io E per questo dovete mettere voi il codice in tempo E io non posso fare niente Ora ne c'è un'altra 5v5 Posso già scegliere il personaggio nel mentre Nel mentre aspetto che voi vi preparate È tutto falso In che senso, Nico? Dimmi, cioè, cos'è falso? Non capisco Ciao Daniel Se volete provo pure allora a fare invitare casualmente Perché io non è che invito persone specie Faccio casualmente Perché se ne in tanti Se volete faccio pure così Quindi facciamo così Invita, 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 invita Invita, invita Invita, invita, invita Invita, 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 invita Poi non mi fa mandare più niente Che ora devo spedare? Voi accettate? Ma invita, invita Invita, invita, invita Dobbiamo entrare noi E beh, siete tutti che volete entrare Come faccio? Scusami Ciao, Lender34 Manca solo Quell'altra persona che accetta Voi accettare il tuo club Suonare il pazzo Il problema è che È pieno Voi accettare il tuo club Ecco, il problema qua Di invitare Per chi mi chiede sempre Di invitare È che invito E c'è gente di voi Che non accetta E io come faccio? Non posso neanche partire adesso Perché finché questo Questo non accetta Trocca per annullare Non annulla neanche Vabbè, è partito Va bene Che togno ha partito De Bemiglielo È finito De Bemiglielo È finito Ho fatto pure il video Ciao Nico Ciao Peppo Vai, vai, vai Oh my god Oh my god Ho un robot Che non sa cosa fare Ok Giù Giù Ho chiesto qualcosa Non so cosa ho piazzato Ciao Mr. Capivara Oddio Quindi ora mi cerca Su Amici Italian E per me è questo C'ho gli amici al massimo Non posso neanche mangarvela Però c'è pure voi Che ho raggiunto il massimo Che è il massimo Di questo 200 C'è un bot È perché c'era uno Che non accettava E quindi ho dovuto Cercare di rifiare Ma che è tutto Dove finita la cat vaniglia? Ehm... Non so Non mi piaceva molto Come serie Cioè non mi è intrigato molto Questa serie che avevo organizzato Va bene Dai ragazzi siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Siamo in vantaggio Quindi questa volta Facciamo col codice Perché avete visto pure voi Ho invitato C'era un ragazzo Che non accettava Quindi non possiamo fare niente Per se non lo vorreggiamo tutto il tempo A guardare Questo è quello che possiamo fare dopo Quindi... Andiamo su... Andiamo su... Quindi preparatevi Io aspetto un pochetto Così già vi preparate Mi sento un attimo la roba Ok Ok signori Siete pronti? Io mo clicco E ci sarà il codice scritto Voi dovete metterlo 3 2 1 I codici sono tratte Qua Qua Questo qui Io ora vi aspetto Aspetta Davvero devo ripetere il codice Posso fare una parte con te? Devi mettere il codice per entrare Che cerchi sui amici Italianaprise Sono pieno di amici Ho raggiunto il massimo E questo non posso mandare neanche Mi puoi salutare Che è decisamente Nisar e basta Ciao Nisar Aspetta Se crea un club Puoi entrare anche tu E non posso Perché ho questo clan Creato da me Pog e Domi Comunque Ora siamo full Quindi Prendo un personaggio a caso Vediamo Lei Quando fai la partita In cui sei te Chi scegli Chi entra? Non sono io che scelgo Siete voi che dovete entrare C'è scritto il codice a fianco Quando mostro il codice Acquisco più veloci Esatto Cioè questa è la cosa È una roba di velocità Io purtroppo Non posso fare niente Ah devo mettere pronto Aspetta vi faccio un zoom epico Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Ho sparato qualcosa Sono morto Neanche mi calcola Perché se devi in tanti a scrivere Devo pure cercare di giocare Riscrivi il messaggio Invece di scrivere Neanche mi calcola Così leggo il messaggio Vuoi dirmi Questo alla fine Una cosa che dico sempre a tutti Riscrivete il messaggio Invece di scrivere non mi leggi Ecco ora mi hai scritto Non mi calcola Ti sto calcolando Dimmi Comunque Prima mi hai detto Che facevi una partita Così e poi Sceglievi te Eh però Hai visto pure te Quando ho scelto Le persone Cioè ho scelto io Intendo invitare a caso Senza il codice E poi l'ho invitato a caso Uno non accettava E la partita non partiva Oh no Vabbè Ora ne ricordo un'altra Le sopravvenze Non si può fare Che dopo È un po' un casino Quindi facciamo No Cosa Raffaggiamo E 5v5 E c'è il personaggio Mentre Prendo Boh Ok Questo È il codice Lo trattere Qui Riporti Spelanchi 2 Si potrebbe fare Che direzione Capipara Certo Mi fa entrare Il team E il team È pieno Perché l'abbiamo perso Vabbè Fa niente La prossima volta Vinceremo Ma leggi i messaggi Sì Solo non riesco A leggere tutti Siete In quanti Adesso vi dico In precisione In quanti siete Siete 108 persone È difficile Leggere tutti Nico G Ti ho detto Che è pieno Il clan Ciao Come stai Tutto bene Ciao Stefano Mi saluti Ciao Alexander Ciao Stefano Ok Posso fare Di Leonardo Ok 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 Io 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 Perché ho su questo coso Aiuto Devo fare Mega Proietti Non eri un gatto Sì Ci potrei fare Una cosa Passa Wait Aspetta Mi hai detto Una cosa geniale Aspetta Un attimo In questo momento Sono un gatto Allora Allora Non vedrò Niente Non riesco a vedere Un po' La chat Non riesco a intravedere Non so neanche Come se è disconnesso Per inattività Ma come Ma sono stato fermo Per 5 secondi Di Fail Non è ritratto No Ok Scusavo Ok Ho sbattuto Contro il microfono Aiuto Ok Non vedo niente Con questa scatola Un overdrive Shirt Non vedo il cazzo Un overdrive Ok Mi voglio aiutare i miei amici Ok 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 Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Aiuto Non vedo niente Mamma Mamma mia Ok 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 Non stavo leggendo la chat Perché non vedevo niente Ma quando riporterai Minecraft Bedrock Horror Che si potrebbe rifare Dimmi Alessandro Ciao Kingdom of Gaming Ora Oh no No C'è Mi sta arrivando Tutte e 30 mila De richieste Mi ha tolto E non disturbare E' un problema Questo Non posso più muovermi Oh no Oh no No Se devi fare tutto quanto Oh no Aspetta La posso fare La posso fare Dopo ricordami come si faceva Aspetta Amici E poi c'era lo stato No Oh mamma mia Aiuto Oh no Ce la posso fare Ce la posso fare E' un casino E' un casino Ragazzi Io sto così in loop C'è Non riusciamo a fare la live Però se Voi Spammate pure Di inviti Se volete Posso fare così Stiamo così Io che rifiuto Le richieste Perché Voglio cercare Una lobby Con tutti Quanti Aiuto Ok Ok Dovevo fare in fretta Dovevo fare in fretta Dovevo fare in fretta Amici Come si faceva Non mi ricordo più Ok Messo Non disturbare Quindi Ora posso ricreare La lobby Tranquillamente E fare tutto Quindi Battaglia 5v5 Ora vi mostro il codice Vediamo Boh Prendo lui Ora Vi mostro il codice Siete pronti? Uscirà Qui Dove sto indicando Per chi non lo sa Quindi 3 2 1 Ecco il codice Lo tradelli Dovete scriverlo Velocissimamente Veloci 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 Dovete essere Ma veramente Tanto veloci Dopo andrete a portare Deltran Sì Stavo pensando Pure Deltran Ma perché Ma perché Ti piacciono I gatti Perché Sì Mi sono Che ti seguo I cosplay Di FNAF Che ti ha Chiesto la foto Ah sì Mi ricordo Ciao Simone Ok siamo full Quindi Pronto Facciamo calcio 5v5 Cioè c'è il 5v5 Del calcio Me va bene pure Me lo facciamo Qualcos'altro Ah eccolo Sì Eccolo Ok Calcio V5 V5 Dai sgoschi Ma tu hai un gatto No Soprano Fattiamo Un demica Volpino Devi mandarla Devi mettere il codice T per entrare Nella lobby Perché Purtroppo Un po' Sovare Che invito Ciao ragazzi Stato bellissimo Giove Non tero Ah Bella Ciao Allora Che dopo Inviti Dovete mettere il codice Se non mettete il codice Non posso invitarvi io Perché Entrerà altra gente Questa è la cosa Non riesco a entrare E Se ve lo riesco a mettere il codice Mi fa entrare anche Se l'ho scritto bene E' perché forse Già era in tre delle persone Che scrivo molto velocemente Mi siete in tante a scriverlo C'è cosa c'è Invalido E' perché Penso Iniziata Quindi Ora non fa entrare Certamente non siamo Nei stessi Ah se volete Possiamo fare Allora Di nuovo la roba Dell'invito Però poi Ci vorrà tempo Possono capitare Pure i bot Però Se volete Possiamo pure fare così Io mi accorgo Ciao Lorenzo Non tu Non l'ho letto Perché è la scatola È la scatola di quando ho fatto Tu puoi servire Oh my god Oh my god Sì Sì Caserma Sei antipatico Il 4K Dimmi Io purtroppo Non posso fare niente Se voi Dovete mettere il codice Dovete mai Arrivare i mini Comic Comic Posso cercare Di andarci Solo che Penso Ora in questo periodo Non riesco Come mi saluti Ciao Mister Capibara Allora facciamo dopo Invito io Allora facciamo così adesso Adesso invito io Così risolviamo subito Questo problema Qui facciamo così Io metto Arafa gemme Invita 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 In modo che posso fare così Perché dopo Se si mettono a leggere I nomi di chi Devo invitare È infattibile Perché ci sono quelli Che mettono il codice Io qua C'è un altro posto Invito uno a caso Voi Voi fare una reaction a lesbian hotel sarebbe figo un canale di reaction ora in questo momento non ci sono più gli stessi quelli che mettono il codice velocemente quindi sono persone casuali può capitare qualcuno che posso invitare per sbagliare la seconda volta però non posso farsi niente questo io perché neanche me ne accorre che non posso memorizzarmi tutti i vostri nomi dopo quando finisce la rifà un'altra non lo so perché ho altre cose da fare pure aspetta un attimo con griechimi con griechimi con griechimi con griechimi chokero saint cut con griechimi con griechimi non mi arrivo appena in griechimi ho raggiunto il massimo voglio dire una cosa dimmi Sabrina scrivi te non invidi mai non so se hai visto però siete in tanti che volete entrare io non posso cercare i nomi mentre cerco i nomi della persona altri 70 saranno entrati nella roba io non posso farci niente io voglio cercare di giocare con tutti beh ora ho iniziato ad invitare io casualmente non che così capitano gli stessi più altro così non posso fare niente io come si fa giocare con te io invito casualmente le persone che accettano amistizia ora ho raggiunto il massimo ora non posso non fai niente vai che ti faccio i gatti oh così mi ascolti e scrivi e scrivi Nico oh quanto già me l'ho fatto eh Nico io ti ho detto mi ascolti riscrivi il messaggio non posso leggerlo se mi scrivi e non mi ascolti oh 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 ora invito altre persone casuali quindi vi devo pure fare in fretta io invitare perché so dopo entrano quelli che mettono il codice quindi questo 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 oh ma lui boh non lo so lui qui Ho mai un video in cui adotti un gatto? Sarebbe bello Solo in mia madre non vuole i gatti Quindi è difficile Ciao il gatto cat C'è tu sordato gatto cat Di dove sei? Della terra Oppure te già avevo sordato Croin's cat Comunque tra le mie richieste amicizia Vi faccio pure vedere Ho raggiunto il massimo Non posso più accettare a nessuno E questo è il problema Il futuro farò una del Fortnite Non lo so devo vedere Mi sono andato in un noob Ciao andato in un noob Domandi? Cosa Nico? Prima mi chiedi se ti rispondo Però devi completare la frase Che lo mandi non so cosa intendi Comunque se ne mettete pronto Quale è il tuo brodo preferito? Ehm Nita oppure Leon Leon A Romics non sono riuscito a venire Perché avevo un impegno Un giorno riuscirò a chiederti una foto Dai dai Io cerco di venire al prossimo Romics Che c'è questo anno Se non erro Manca solo il signor robottino Che si chiama Get Pro Pro Manca solo il signor robottino Mi sono di ciao SteffRTX Verrà al Comic Con Sì ma non avrò uno stand Sarò in giro Per la fine del Comic Con Ok Ciao inventore Mi sono pure dimentico di cambiare passaggio Ok Oh my god Non è un casino da usare Mi trovo un botto male con lui Dovei stare distante A lanciare le granate Però mi trovo bene io Ok Che ragione sei Del pianeta terra Mi sono Ah, sono nel svantaggio, sono nel svantaggio tantissimo. Inventore, sono della terra, io lo abito. Se farei una comparsa, sono con Luca. Non lo so, perché due vende, perché io ho il problema che io vado ancora a scuola, quindi un po' difficile. Però voglio cercare di andare in tutte le fiere pure nei prossimi anni. Non ci credo che io vengo dalla terra. Grande, Mr. Capibara. Il fratello. Giù. Facciamo, facciamo, facciamo. Facciamo, facciamo. Con il tempo si impara a giocare un gioco. Cioè, io pure, neanche sono il massimo io. Farei mai un libro come con Poggo? Non lo so, si può vedere. Comunque, adesso ne crea un'altra. Però questa volta devo cambiare mi, sempre solo me lo dimentico per la trentesima volta. Aumentiamo i posti di 5. E inizio a invitare. Invitiamo lui. Invitiamo lui. Invitiamo lui. Invitiamo lui. Invitiamo lui. 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 Ok. Mi sono riliegato, per favore. Ciao, Giovanni. Ciao, ehm... Busso. Che ti piace, fa più time. Sì, è molto bello. Probabile la... Non penso prossima live, perché... Ah, eh sì. Le live saranno programmate. Saranno... Cerco di fare ogni sabato una live. Sempre le 16.30. Ovviamente poi annuncerò se la faccio confermata, oppure non la faccio, eccetera. Le due persone non accettano, quindi... Ok. Vedete, è pronto? E partiamo. Tu hai un peluche di stitch? Se è sì, lo fai vedere. No, io purtroppo non li tengo. È un peluche bello. È un peluche bello, è... Quinto. Lui. Snorlax è bellissimo. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Stai per iniziare. Ok. Va, 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 va. Ce la dobbiamo fare, ce la dobbiamo fare. Io ce l'ho fatta iniziare. Sì. Non lo so. Signori, sapete, saluti. Non avevo letto il messaggio. Comunque, ciao Alex. Gastrogetto, ce l'ho risposto. Sì, mi piace. Oh, oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Ok. Ma sono davanti a quello. Non mi ho accorto. Potete anche il mio padre Thomas. Ciao Thomas. Oh, mamma mia. Tutto un caos. Siamo in pericolo. Signori, aiuto. Oh, mamma mia. Stando in. Giocherai a Titanfall 2. Non mi piace molto come gioco. Cioè, mi ricordo bene però che gioco era spe. Non mi sa che se non ci ho mai giocato. Quanto fa uno più uno? Dieci. Ok, andate a fare un piccolo contro una roba. Ok. Ok. Allora, usciamo. C'è un'altra. No. Messaggi. Battaglia amichevole. Raffagemme. 5v5. Ok. Adesso rinvito altri di voi a caso. Quindi, invita lui. Invita lui. Invita lui. Invita lui. Invita lui. 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 Che posso vorreste Poppile time A me c'è un botto Cutnap Hola Dove portare Titanfall 2 Non lo so Devo vedere Prima come gioco Perché devo vedere Se mi gusta Come gioco Ok manca solo Uno E Le sgoschi Che è il tuo BFF Era best friend Giusto Vabbè Comunque Pogodong Aspettino Ascolto E riscrivi il messaggio Andy Dove Dove Oh mamma mia Ma sei un gatto o allora sei Gartnapp? Tutte e due Ok Poi partiamo in Garton Bambam 6 Non so dove l'iniziamo è che lo porterò di sicuro in live Leggi un attimo i messaggi E unico che hai scritto perché l'ultimo messaggio che ho letto da te era KKKDKET Non so come te dovrei rispondere se hai scritto quello Questo è il mio preferito Il mio Sono diversi Freeran Oppure Demon Slayer Falcon Titan E un altro non mi ricordo più come si chiama Però vabbè Ti faccio dei Pokémon Non sono appassionato però si Comunque signori Io penso che devo terminare la live Perché ho un botto di impegni da fare Però Ritornero con un'altra live Sabato Ritorno con un'altra live di sicuro Voglio cercare di fare ogni sabato una live Dove facciamo sempre diverse cose Quindi Niente È stato bello giocare Ora Devo andare a fare altri 30.000 di video Sì E soprattutto lanciare bombe a tua mica poggo Quindi Signori Quindi È stato bello Mi spiace che non tutti sono riusciti ad entrare Perché Avete visto è stato un caos Ma è tantissimo Quindi Niente